Vive in precarie condizioni nella sua abitazione alla periferia di Urbino, l'anziana di 85 anni che non sapeva di essere diventata un'ereditiera. Rimasta senza familiari dopo la morte del fratello avvenuta nel 2012, la donna ha ereditato un ricco patrimonio di oltre 1.800.000 euro in denaro. Soldi di cui un noto commercialista della città ducale, suo fratello dipendente dello stesso studio e un vicino di casa della signora, o un pensionato, avrebbero tentato di impadronirsi raggerandola. Si fingevano suoi consulenti, andavano a farle la spesa, l'accompagnavano in farmacia, in banca, riuscendo così a conquistare la sua fiducia. E non solo conoscevano bene il suo ingente patrimonio, ma erano anche consapevoli che la vittima non era in grado di distinguere nemmeno l'equivalenza tra lira ed euro. Vivendo da alcuni anni in uno stato di solitudine esistenziale, la signora è incapace di comprendere il valore economico anche dei prodotti alimentari comuni. Era convinta, ad esempio, che un filoncino di pane potesse costare mille lire o mille euro. Per lei era indifferente. E i tre indagati, con l'intenzione di dissimulare il tesoro della malcapitata, hanno cercato di incassare in contanti la somma di 1.300.000 euro, facendole firmare un assegno con la dicitura me-medesimo. Il documento, però, risulta compilato da una mano diversa. Addirittura la pensionata, dopo aver consegnato l'assegno in banca, ha chiamato due giorni dopo per chiedere notizie sull'operazione, chiedendo di far presto perché quei soldi le sarebbero serviti per la spesa e per il dottore, non rendendosi conto dell'enorme cifra. Una truffa, questa, sventata in soli 20 giorni dalla Guardia di Finanza di Urbino, sotto il comando del Capitano Arcangelo Mottola. L'attività investigativa coordinata dal PM di Urbino, Irene Lillio, ha preso avvio grazie anche alla collaborazione del direttore dell'istituto bancario, che si era insospettito degli ingenti prelievi. Quando l'assegno è arrivato nelle mani del direttore di banca, siamo stati prontamente avvisati e grazie alla collaborazione del direttore dell'istituto bancario siamo riusciti a intervenire in maniera repentina eseguendo decreti di perquisizioni domiciliari delegati dalla Procura della Repubblica. Il trio, inoltre, avrebbe sottratto alla donna 250 mila euro anche con bonifici bancari utilizzando causali come regalie o consulenze. Di questi, 177 mila, sono risultati confluiti sui loro conti correnti. Somma sottoposta a sequestro preventivo insieme all'intero patrimonio dell'anziana che è stato affidato in gestione ad un amministratore giudiziario con lo scopo di tutelarla. Gli indagati, invece, dovranno rispondere di circonvenzione di incapace aggravati in concorso.